ciao ragazzi bentornati sul mio canale questa sera andremo a vedere una nuova piattaforma uscita da da un giorno è uscita proprio ieri una di quelle piattaforme mordi e fuggi tipo aurora mine tipo sierra hash che comunque ci sta ancora dando grandi soddisfazioni in più oltre a questa piattaforma voglio fare due piccoli aggiornamenti in merito ad altre due perché ho due notizie ancora da aggiungere ma cominciamo da questa allora questa piattaforma si chiama globe hash basta iscriversi cliccando sul link che trovate nella descrizione del video e niente devo analizzare un pochino il sito scendiamo un pochino ci dice che un pacchetto standard ci offre il 10 per cento di interessi per un investimento che varia da 0,001 bitcoin a 2,999 considerato il valore attuale del bitcoin direi che non mi sembra neanche il caso di andare ad analizzare gli altri punti quindi rimaniamo su questa forma di deposito quindi il 10 per cento di interessi al giorno scendiamo giù ci parla del programma di affiliazione praticamente la prima linea ci dà l'8 per cento dell'investimento l'1,5 sulla seconda linea lo 0,5 sulla terza linea quindi sostanzialmente se iscrivete persone con il vostro codice quindi lo dite ad amici parenti gatti cani qualsiasi altra forma di vita conosciate potete guadagnare queste percentuali suddivise appunto sul primo livello all'otto per cento di guadagno secondo livello 1,5 il terzo 0,5 quindi come vedete da qui i giorni di rodaggio al momento sono solamente uno quindi da ieri sono stati depositati 0,27 bitcoin quindi è nuova nuova e fresca questa piattaforma quindi bisogna approfittarne se siete disposti comunque a rischiare quindi lo sottolineo sempre perché comunque si tratta di piattaforme che hanno breve durata non hanno nessuna storia perché appunto come vi ho appena detto come in questo caso è nata da semplicemente un giorno però sostanzialmente sono piattaforme che se prese all'inizio ci pagano per circa un mesetto e quindi andiamo a recuperare il nostro investimento e a guadagnarci anche qualcosina quindi se siete disposti a rischiare delle piccole somme iscrivetevi al link appunto che trovate in descrizione e effettuate un deposito andiamo a vedere un'altra cosina user account ok sentiamo nell'account vabbè dice che in questo caso io ho un deposito attivo pari a questa somma per fare un deposito basta cliccare qui o qui dove preferite si apre questa pagina dove appunto rimane selezionata già di default il 10% il piano che ci offre il 10% andiamo a inserire la somma che vogliamo investire clicchiamo su questo fleghiamo questa casella e clicchiamo su spend ci verrà fuori appunto il codice diciamo l'iban sul quale effettuare la transazione quindi dal vostro wallet personale dovrete trasferire bitcoin all'indirizzo che vi viene dato cliccando su spend non c'è altro da aggiungere come al solito se avete domande volete assistenza avete bisogno di delucidazioni per qualsiasi cosa non esitate a lasciarmi un commento a chiedermi e niente passiamo alla seconda al secondo argomento di questo video future bank allora vi avevo ora lasciato che praticamente future bank mi aveva limitato il ricevimento degli 84 satoshi ogni 20 minuti perché mi richiedeva appunto di applicare due delle tre condizioni che mi venivano diciamo imposte io le ho eseguite dopo credo un paio di giorni due o tre giorni mi hanno sbloccato questa sezione quindi da questo momento io ogni 20 minuti posso racimolare 84 satoshi quindi questo era per dirvi che in questo caso non cioè ha mantenuto la promessa la piattaforma poi successivamente ho effettuato altri reinvestimenti da 0,001 ne ho fatti due e basta qua dobbiamo solamente attendere di vedere cosa succederà l'altra novità è che novità l'altro aggiornamento è che sierra hash ha pagato ancora io ho effettuato un ritiro questa sera alle 10 e mezza 10 e 37 da 0,001 12 e spettro coin me lo ritrovo qui come potete vedere la transazione è al 4 dicembre alle 11 e 52 quindi anche in questo caso si è rush si è comportata egregiamente con questo è tutto ragazzi per qualsiasi cosa contattatemi lasciatemi un commento iscrivetevi al canale vi raccomando perché è fondamentale per mantenersi aggiornati e soprattutto sfruttare da subito questo tipo di piattaforme se vogliamo rischiando guadagnare qualche soldino al prossimo video ciao ciao